Aurora Ramazzotti e il messaggio sull'amico Luca Salvadori. Come purtroppo molti hanno saputo il motociclista, youtuber e figlio del noto produttore musicale e fondatore e direttore della Trident Motorsport Scuderia Automobilistica di Formula 2, Formula 3 e Formula Regional Maurizio Salvadori, è deceduto in seguito ad un incidente. Il poco più che trentenne è morto ieri, domenica 15 settembre, a Frauburg-Dreyek, in Germania. Il pilota era impegnato nelle prove quando un contatto con un altro pilota ha provocato il terribile schianto fatale. In tanti sono rimasti increduli di fronte a questa tragedia. I genitori del ragazzo hanno scritto in un post, ci ha lasciati seguendo la sua passione. Numerosi i commenti da parte di amici, colleghi, ma anche semplici spettatori che grazie a lui si stavano appassionando al motociclismo. Anche Aurora Ramazzotti, sua amica, ha voluto dedicare a Luca un messaggio. Lo strazio di Aurora Ramazzotti, Luca avrebbe dovuto incontrare presto il piccolo Cesare. Fin dai primi momenti si è capito che le condizioni di Luca Salvadori erano gravissime. Portato in ospedale il pilota è deceduto. L'annuncio è stato dato la domenica mattina. Il giovane, come riporta la Gazzetta dello Sport, aveva già corso nel 2023 nel campionato su strada in Italia nelle pericolose gare in salita. Qui aveva segnato diversi record con la sua Ducati Panigale V4S da oltre 220 CV. Tra i tanti messaggi di dolore c'è anche quello di Aurora Ramazzotti. Nonostante non si vedessero da mesi la figlia di Eros e Michelle aveva un bel rapporto di amicizia con Luca Salvadori. Tanto che presto il pilota avrebbe dovuto incontrare il figlio dell'influencer di Goffredo Cerza, il piccolo Cesare Augusto che oggi ha un anno e mezzo. Aurora Ramazzotti ha postato in una story Instagram gli ultimi messaggi che si era scambiata proprio con Luca. Quando vieni a trovare Cesare? Gli aveva chiesto Aurora in chat. E il pilota le aveva risposto. Mi sembra che ci siamo visti ieri e non era ancora nato. Incredibile come K asterisco asterisco o passa il tempo. Bisogna organizzare? L'influencer aveva quindi postato una foto del piccolo con la tutina di Son Goku. Adesso, rileggendo quelle frasi la stessa Aurora ha commentato amaramente. C'è tempo. La più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c'è tempo. Fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l'ultimo. Ciao Luca ancora non ci posso credere.